Il nodo celtico delle Cinque Volte, un legame profondo con la natura e la spiritualità celtica. Nel vasto oceano di simboli che hanno attraversato le ere e le culture, il simbolo Cinque Volte emerge come un faro di saggezza e connessione, con la sua forma unica, composta da cinque cerchi, quattro dei quali circondano un cerchio centrale. Questo simbolo rappresenta un intricato intreccio di significati e credenze profondamente radicati nella cultura celtica. Il simbolo Cinque Volte, noto anche come Croce Borromea, da non confondere con gli anelli borromei, ha varianti presenti in molte culture antiche in tutto il mondo, come il Quincunx e il Pentacolo. Ma è nella sua incarnazione celtica che il simbolo Cinque Volte risplende con una luce particolare, riflettendo le credenze e le tradizioni di un popolo antico. Iao Design del simbolo Cinque Volte è semplice, ma profondamente evocativo. Quattro cerchi, legati insieme da un quinto cerchio centrale, creano una forma che sembra sia complessa che unita. Questo quinto cerchio, al centro del simbolo, rappresenta l'integrazione e la connessione, senza il quale gli altri cerchi si disperderebbero. Ma cosa rappresenta esattamente questo simbolo? Le interpretazioni sono molteplici e profonde. Simbolo dei cinque elementi, acqua, fuoco, aria, terra e spirito. Questi elementi sono fondamentali per le credenze celtiche e sono considerati le fondamenta stesse della vita. Simbolo delle stagioni, primavera, estate, autunno e inverno. Il cerchio centrale funge da meccanismo per tracciare e regolare la durata di ogni stagione, riflettendo la visione ciclica del tempo dei celti. Simbolo dell'illuminazione Meditare su questo simbolo porta a una maggiore consapevolezza e comprensione, unendo gli aspetti della natura con la coscienza umana. Simbolo di protezione Il numero cinque è sacro in molte tradizioni e il simbolo cinque volte riflette questa sacralità. Simbolo delle direzioni Est, Nord, Ovest e Sud con il cerchio superiore che rappresenta l'est e l'alba di un nuovo giorno. Simbolo di spiritualità Ogni cerchio è associato ai Tuata de Danan, i figli della dea irlandese Dano. Mentre Dano occupa il cerchio centrale, gli altri cerchi rappresentano i suoi figli, portatori di doni magici per i celti. In conclusione, il simbolo celtico delle cinque volte è un ponte tra il passato e il presente, tra la natura e l'umanità. È un simbolo che ci invita a riflettere sulla nostra connessione con il mondo che ci circonda, sulle tradizioni che abbiamo ereditato e sulle credenze che portiamo avanti. E mentre il mondo cambia e si evolve, il simbolo cinque volte rimane, eterno e immutabile, a ricordarci della profondità e della complessità della nostra esistenza. Grazie a tutti.